Antoniana Emergenza è nata nel 1975 e si è interposta fra il sistema sanitario nazionale e il sistema privato. Nel 1975 nove persone si sono unite e hanno creato questa società, hanno avuto una brillante idea, pensavano già a un sistema sanitario privato. Tra i punti di forza di Antoniana sicuramente il riguardi personale che è altamente formato. Un altro punto di forza è una piattaforma informatica che ci siamo costruiti in casa, cucita su misura per ogni cliente. Antoniana è attenta a stare a passo con la tecnologia e con l'innovazione attraverso un programma di informatizzazione di tutti i servizi. Uno degli obiettivi più importanti di Antoniana è la formazione continua e la formazione ad hoc rispetto ai servizi erogati. Antoniana Emergenza è un'azienda che opera nel mondo dei servizi pubblici e privati. Tre sono stati i pilastri su cui noi abbiamo lavorato e abbiamo portato il nostro contributo. Il primo è il pilastro dell'organizzazione. Oggi un'azienda ha il dovere di essere performante, creare dei processi che gli consentono di creare grandi performance. Tutto il tema dell'industria 4.0, quindi tutto quello che oggi gira sotto il tema della digitalizzazione, consente alle imprese di ottenere performance veramente interessanti. Il secondo pilastro invece è stato quello dello sviluppo del business. Oggi produrre un prodotto o generare un servizio ma non avere la capacità poi di comunicarlo al mercato significa avere un valore non trasferito. Comunicare valore al mercato è un aspetto fondamentale per creare aziende profittevoli. Il terzo pilastro che è stato fondamentale per il successo del nostro progetto è quello rivolto alle persone. Coinvolgere e individuare nuovi talenti all'interno dell'organizzazione.